Goditi solo il meglio del sole, Ricciutelli Giampiero dal 1966 a Terni è leader in produzione e montaggio di tende da sole su misura per esterni, terrazze e balconi, sempre in armonia con lo stile della tua abitazione. Ricciutelli Giampiero è esclusivista con ravi con l'innovativo sistema per gotenda, le strutture outdoor bioclimatics, i gazebo e le vele per arredare l'esterno con un design ricercato. Goditi al meglio il tuo spazio esterno protetto dal sole e approfitta delle detrazioni fiscali del 65%. Ricciutelli Giampiero e a Terni, in strada di Recentino 62. Mister Sandro Pokesci, intanto inizio con una battuta, c'era stata una confusione da parte nostra pensando che lei fosse il fratello di un Pokesci molto noto che a Terni di Paolo, invece non c'è parentela. No, c'è una parentela, mi hanno detto, tra i nonni c'è una, perché sono dello stesso paese, quindi diciamo il ceppo del nostro santo, c'è qualcosa, c'è qualcosa di... Io l'ho conosciuto 10-15 giorni fa per la prima volta, l'ho sempre visto perché, ti ripeto, lui è del 61, io sono del 63, abbiamo giocato in campionati diversi, lui era il grande nome, io ero il giocatore. Infatti quando mi dicevano tutti, ma tu sei il Pokesci della Lazio, io per acquistare un contratto più alto, sì sono il giocatore della Lazio, quindi mi ha aiutato molto su questo qui. Però a parte gli scherzi, è un grande professionista, mi ha dato anche qualche consiglio della piazza di Terni, perché lui ama molto, lui è innamorato di questa piazza. Sarà qualche ipotesi di collaborazione? Io guarda, avevo parlato con lui e poi stiamo un attimo valutando, mi farebbe molto piacere, però la società poi deve decidere, io gli ho fatto una mezza proposta a lui, però poi è la società che ne deve, questa è la sua decisione che prende la società. A me mi farebbe piacere perché quando un ragazzo si è comportato bene in un posto, può solamente che darti consigli, quindi si vedrà. Parliamo un attimo invece della prima squadra che lei sta allestendo insieme al direttore sportivo Evangelisti, ecco, intanto è arrivato un blocco dal Fondi che lei conosce molto bene, quali altri progetti ha per costruire questa squadra? Noi abbiamo costruito, io a Luca gli avevo detto di, avevamo visionato già dei giovani forti delle primavere, fortissimi, e li ha centrati tutti, è stato incredibile, anche l'ultimo acquisto che abbiamo fatto. L'Izzari. L'Izzari è stato veramente, è stato veramente eccezionale perché c'era molta concorrenza, è difficile prenderlo, ma noi già l'avamo visionato quest'inverno proprio per fare un campionato di avanguardia in Lega Pro. Poi siamo andati in via, abbiamo visto quel ragazzo, un ragazzo della Roma, della Fiorentina, abbiamo centrato tutti i nostri obiettivi. Adesso sono rimasti gli ultimi due e ci vuole un po' di pazienza, perché ti ripeto, noi non entriamo nel mercato come tanti, ta, noi abbiamo preso un attaccante molto forte, poi si è presentato una squadra e l'ha pagato tanti soldi. Con noi c'è? Non si può dire, abbiamo un accordo, abbiamo preso un attaccante importante. Per l'Aternana. Per l'Aternana, però tutto entusiasmo, poi quando viene il Dio Denaro, è normale che il Dio Denaro, noi abbiamo preso con un accordo molto, e non possiamo competere con questi club, ma sono io il primo, non voglio far spendere i soldi al mio presidente, perché a me mi hanno insegnato una cosa, massima resa, poca spesa, io gli ho fatto non ti preoccupare, ti voglio far spendere pochissimo, ma ti voglio arrivare in alto, perché per me non sono i soldi, non sono prendere i grandi nomi, noi dobbiamo avere un senso di appartenenza. Il mio sogno è che un giorno io qui potrei allenare 11 veramente di terni, i miei due campionati che ho vinto a Torbellamona e a Borghesiana, parliamo di prima categoria promozione, qualche uno riderà, ma io l'ho vinto con 9 undicesimi del quartiere, dove mi portavano mille persone al mio campetto di periferia, ecco, se noi riuscissimo ad avere un senso di appartenenza, non dico proprio di tutti i ternani in una squadra, ma già giocatori dell'Umbria, giocatori che sentono questa, io penso che entrerei già in campo con un punto in più degli avversari, i grandi campioni, i stranieri, per me lasciano il tempo che trovano, poi quando arriveremo in un calcio che conta, perché oggi la Serie B è ancora un campionato sì importante, ma non è il vero calcio, per me il vero calcio è arrivare in Europa, quindi lì cominciamo a parlare di vero calcio, perché anche il calcio italiano, levato alle tre squadre, è finito, non ci sono più grandi squadre, vediamo le nostre squadre italiane che hanno più titoli, sono in mano a stranieri e quindi questo ti fa capire proprio la crisi del nostro calcio. Senta, le faccio due domande, la prima è sulla sua filosofia di gioco, insomma, prima parlavamo di moduli, anche se lei non vuole neanche sentire parlare di moduli, però parliamo della sua filosofia di gioco e della preparazione atletica che ha in servo per i suoi ragazzi. La preparazione atletica deve essere, oggi il calcio è un po' cambiato, mentre prima si lavorava molto sul fondo, oggi si lavora molto sulla reattività, si lavora molto sulla rapidità, sulla velocità, si parte subito con la palla, io dai primi giorni, se io ripenso a tutti i ritiri che ho fatto da giocatore, i primi ritiri, il calcio è molto cambiato perché sono entrati i preparatori con i loro GPS, hanno tutto, oggi il giocatore è monitorato, c'ha tutto quanto, sappiamo tutto dal mangiare, da come si muove, da come si allena, quindi siamo avvantaggiati, abbiamo il match analisi che vediamo gli avversari, sappiamo tutto quanto, è come guidare una macchina che ha tutti i pulsanti e la macchina va, però noi ci dobbiamo mettere qualcosa e quel qualcosa noi lo dobbiamo fare capire subito in fretta, cioè l'amore per la maglia, voglio l'attaccamento, voglio una squadra cattiva, grintosa, vogliosa, che non si risparmia neanche negli allenamenti, loro lavoreranno tre ore al campo, io gli dico sempre, facciamo dei sacrifici, no, questo è un divertimento, io lo farei gratis, io l'allenatore anzi pagherei, a volte ho anche pagato per allenare, ma ho pagato nel senso che ho portato amici miei, datemi una mano perché non possiamo pagare gli stipendi, ecco questo per me ho anche pagato, e ho fatto tre anni in Serie D senza percepire un euro, però non mi interessava, andavo a fare un altro lavoro, facevo il portantino, facevo queste cose così, ecco quelli sono sacrifici, sacrifici di gente che sta al sottore, il calciatore quando io mi sto facendo dei sacrifici non può stare con me, quei calciatori io li odio, li odio perché il primo calciatore che mi dice a me sto facendo dei sacrifici, no, il calciatore è un privilegiato e come privilegiato deve solamente dare il 1000%. Senta, per lei il battesimo della Serie B, sicuramente chi ha visto giocare le sue squadre parla di un calcio molto brillante, no? Sì, è un difetto, il mio padrone me lo dice sempre, se c'era il campionato di chi giocava meglio vincevi sempre, siccome non hai vinto mai niente, infatti lui ha fatto la battuta del secondo posto, la Serie B è proprio il tuo campionato, perché arrivi secondo, non se ne accorge nessuno, e mi porti, perché per lui è un sogno la Serie B, però a me piace sognare, perché la vita senza sogno non si può vivere, io la sera mi addormento e se devo fare un sogno lo voglio far bello, non mi posso fermare oggi in Serie B, sono partito dalla prima categoria, fermarmi in Serie B sarei uno sciocco, quindi il mio sogno deve proseguire. Ok, grazie. Bocca al lupo.